Prendere l'iniziativa, il tiro di Batticello da Rete! Batticello ha portato in vantaggio la sua formazione con una precisa e potente Attenzione, c'è Cancelli che soffia il pallone e deposita a Rete 2-0 per il Castella San Pietro e a questo punto è molto vicina alla vittoria dello Scudetto di Lettanti Ebbene, il Castella San Pietro vinse 2-0 e l'ultimo gol è da ricordare perché lo fece Nicola Cancelli che poi diventò, oltre ad essere stato giocatore di quegli anni, anche gli anni successivi diventò poi il vice di Aregoni nel Borone Grazie a tutti! Grazie a tutti!